cosa dirò mosè disse a dio ecco quando sarò andato dai figli di israele e avrò detto loro il dio dei vostri padri mi ha mandato da voi se essi dicono qual è il suo nome che cosa risponderò a loro esodo 3 13 questa risposta di mosè sembra sottintendere non sono pronto non so cosa dire devo ancora studiare prepararmi avere la sensazione di non essere completamente pronto è qualcosa che può capitare spesso se poi hai la tendenza ad essere un perfezionista proprio questa tua predisposizione tenderà a bloccarti la realtà è che non sarai mai perfettamente pronto a un certo punto devi buttarti e se il signore ti ha fatto sapere che il momento per farlo è adesso buttati adesso anche in questo caso il signore viene in tuo aiuto dio disse a mosè io sono colui che sono poi disse dirai così ai figli di israele l'io sono mi ha mandato da voi esodo 3 14 quando mosè non sapeva cosa dire dio stesso gli ha messo le parole in bocca e la stessa cosa vale per te ma quando vi metteranno nelle loro mani non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovete dire poiché non siete voi che parlate ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi matteo 10 19 20 sì certo di questo il signore ti darà le parole giuste al momento giusto grazie di esistere emmanuel go